Buon martedì 30 novembre. Venite e vedete. Semplice espressione utilizzata da Gesù per invitare a seguirlo senza predefinire. Noi oggi chiameremmo progettualmente questa negoziazione di un percorso. Cioè prima vediamo come stanno le cose, discutiamo un po', vediamo se il progetto può essere applicabile, dopodiché sono anche disposto a seguirti. No, Gesù dice venite e vedete. Espressione semplicissima che sia applicata nella ordinarietà della vita quotidiana ci apre la prospettiva della fede, della fiducia, del lasciarci andare. Giovanni dice ecco l'agnello di Dio. Espressione anche questa di una semplicità straordinaria, il riconoscimento della venuta del figlio dell'uomo. E questo genera stupore e disponibilità a seguire senza conoscere prima il luogo della dimora e il senso stesso di quella dimora. Ma dove abiti tu Gesù? Vorremmo venirti a trovare. Venite e vedete. Questa precondizione di accettare questo invito del venire e vedere. Venire e vedere. Seguire e poi vedere. No, prima mi mostri e poi ti seguo. Perché questo è il nostro nodo di rappresentare anche la fede. Mostrami che cosa sai fare e poi forse sono anche disponibile a seguirti. No, prima vieni mi segui e poi forse ti stupirai oppure semplicemente deciderai di prendere un'altra strada. Questa è la grande libertà che la fede ci indica nella nostra condizione esistenziale. Perché la fede è un abbandono fiducioso al messaggio che salva, alla salvezza che però non ci viene rappresentata come una precondizione. Si svela nell'andare ed è questa dimensione dell'avvento che noi dovremmo imparare a vivere. Questo tempo di attesa ma nello stesso tempo di sequela perché accadrà. L'inimmaginabile, soltanto se avremmo la capacità di lasciarci andare alla fede e alla fiducia che ridefinirà la nostra esistenza, ci rinominerà come Gesù nomina Simone Pietro. Lì si colloca in questo momento di scelta della sequela la ridefinizione stessa della nostra avventura esistenziale che è all'insegna della dimensione dell'amore se solo se siamo capaci di lasciarci andare alla parola che ci invita a seguirla. Buona giornata a tutti.